Sindaco, oggi Consiglio Metropolitano, si chiude una polemica sull'accorpamento l'autonomia del liceo classico Gerace di Cittanova? ...della commissione della città metropolitana che deve ragionare su queste vicende. Il Comune di Cittanova ha presentato la propria proposta, diciamo, che è quella dell'autonomia del liceo Vincenzo Gerace, composto dal liceo classico e dall'istituto artistico, ritenendo che questa autonomia debba essere mantenuta in quanto il Comune di Cittanova è un Comune montano e in base a questo criterio che ci viene riconosciuto dalla Regione ha tutte le caratteristiche di mantenere la propria autonomia mantenendo la direzione scolastica e la direzione dei servizi di gestione amministrativa. E i tempi quali sono? Questa è una proposta che voi avete fatto, il Consiglio, cioè la Commissione dovrà esaminare e poi? La Commissione la deve esaminare ma intanto ha ritenuto fondato l'esame, visto il supporto tecnico-giuridico che noi su questa valutazione abbiamo fatto. Io infatti non comprendo come mai se il Sindaco di Cittanova viene nominato nel Consiglio delle autonomie locali da parte del Consiglio regionale come componente del Comune montano più popoloso della provincia di Reggio Calabria, mi devono spiegare perché il resto delle cose non è Comune montano come definizione del Comune di Cittanova e quindi anche per gli istituti scolastici. Un'ultima domanda. Mettiamo un punto alla polemica che ha scatenato tutto questo bailam politico di contrapposizione tra i partiti di opposizione all'amministrazione. Quel terzo punto sulla delibera approvata il 28 settembre scorso, che cosa significava? Il terzo punto va letto complessivamente in quello che è il contesto della delibera che guardava il mantenimento dell'autonomia. Detto questo, non è in discussione questa questione. Noi abbiamo posto senza sé e senza mai la questione dell'autonomia scolastica dell'Istituto Gerace e abbiamo anche detto che questo punto non è negoziabile, quindi andremo fino in fondo. Non esiste altro. Il resto sono tutte parole che sono state anche espresse, ma il vero punto è che noi riteniamo che l'autonomia del Gerace non è negoziabile.